Ciao, ti do il benvenuto al consueto aggiornamento ciclico con l'indicatore Volten per quanto riguarda l'indice tecnologico americano Nasdaq. Andremo a vedere insieme che cosa ci aspetta per i prossimi giorni, ovviamente il tutto dopo la sigla del canale. Mi raccomando, attendi un attimo e non andare via. Rieccomi, se è la prima volta che stai guardando una mia analisi ti do il benvenuto sul mio canale YouTube. Sono Paolo Pisino, sono un trader dal 2007 e mi puoi trovare sul sito tradingpartutti.com Mi raccomando, iscriviti al canale YouTube, clicca sulla campanella per rimanere sempre aggiornato sia con le mie analisi gratuite quotidiane che con gli eventi live come quello di quest'oggi che è durato una belletta di 4 ore con un Nasdaq che mamma mia si è messo in laterale e non andava. Poi alla fine abbiamo chiuso comunque con 20 punti perché ho preferito chiudere l'operazione alle 18.30 per non portarla oltre e poi vabbè è andato esattamente dove era il target di cui parlavamo durante la diretta. Comunque sono contento perché sono passate la bellezza di 411 persone da quello che mi segnalava YouTube live a vedere la diretta con una costanza di 30 persone. Questo è stato per me molto importante perché preavviso zero, pubblicità zero della diretta perché le faccio quando si stanno per manifestare le occasioni per entrare a mercato. Ti invito anche a unirti al canale Telegram diretto dove c'è gratuito diretto dove riceverai sia il link per quanto riguarda naturalmente le analisi quotidiane che il link per quanto riguarda ovviamente le dirette e i risicolti della mia operatività. Se stai cercando di segnare in 3 days sei nel posto giusto, adesso vedremo velocemente i risultati insieme. Indicatore Voltime è l'indicatore da me creato, è un algoritmo proprietario che serve per fare un'analisi automatica del passato dell'analisi ciclica e proiettare nel futuro. Ci sono dei video ovviamente correlati adesso tra cui l'ultimo che ho postato e caricato sul server nella riservata domenica che sta riscuotendo tantissimo successo perché è un video che permette di essere sempre dalla parte giusta del mercato. Vuol dire che non si perderà mai? Ovviamente no, è impossibile andare contro la statistica ma se sarà sempre dalla parte giusta del mercato poi gli stop loss arrivano con la volatilità. Se vuoi approfondire totalmente il mio mondo, 60 ore di formazione, 61 con quella di ieri cioè con quella di domenica, un anno intero di licenza dell'indicatore, due ore di coach individuale con me potrai imparare a fare trading con uno strumento, un metodo da chi quello strumento o quel metodo lo ha creato. Non sono il ventenne esperto di tutto ciò che hanno fatto gli altri non sono il trader esperto di tutto ciò che hanno creato gli altri ma lavoro con cose mie e questo è un must, un fiore all'occhiello che posso tranquillamente vantare di aver. Tra l'altro c'è una promozione in corso che scadrà questa notte la promozione prevede il 39% di sconto sull'acquisto del programma formativo è incluso un anno intero di indicatore, tre mesi di segnali inclusi un anno intero naturalmente di canale Tega uno sconto del 39% licenza lifetime chiaramente per quanto riguarda la formazione ma direi di passare all'analisi ci sarà poco da dire perché il mercato sta seguendo esattamente quella che era la previsione quindi i mercati in fase di ribasso i prossimi minimi sono previsti tra un 24 e un 28 agosto sostanzialmente alla fine del mese di agosto al momento siamo su un'area di supporto importante però se andiamo su TradingView possiamo vedere molto bene da qua abbiamo a disposizione ancora grossomodo questo la parcheggiamo qua un attimo abbiamo ancora grossomodo a disposizione questo è chiaramente il future all'incirca prima un 150 punti poi il secondo livello di supporto 465 mi piacere dire che il mercato possa raggiungere comunque il canale il lato inferiore del canale rialzista quindi a disposizione è qualcosa come quasi 700 punti di possibile movimento tutto ciò è a differenza di tutti gli altri che un giorno sono long, l'altro giorno sono short poi aggiustano le analisi tecniche e arrivano alla frettata nel mio caso io ho previsto lo short a partire da queste date quindi da quello che è il 31 di luglio e poi il successivo ribasso con la rottura delle 39 cicliche previsto in data 3 agosto il mercato non ha più neanche accendato un rialzo quindi i miei metodi di analisi prevedono con giorni o mesi di anticipo che cosa farà il mercato in multiday e invece per quanto riguarda l'intraday chiaramente lo prevedono con ore di anticipo e anche oggi il trade che ho segnalato sul mio canale telegram è stato precisissimo comunque la fase del mercato è stata ribassista tutto il giorno purtroppo si è messo in laterale e mi ha portato chiaramente a chiudere l'operazione questo è arrivato ad un certo orario che è arrivato in certo orario io chiudo non sto al mercato fino alle 9 la rottura della 39 ciclica ha generato lo short il mercato è rimasto qua praticamente tutto il giorno e poi è andato ben oltre a quello che era il mio target ma è andato esattamente in questo momento sul livello di volume di target che avevo segnalato poi anche nella live quindi con questo direi che è tutto ti auguro una buona serata tra pochissimo farò l'analisi anche sull'S&P che anch'essa sarà veloce come quello ovviamente del Nasdaq perché quando non c'è nulla da dire è utile che mi inventi delle parole è utile che mi faccia figo dicendo che ho provvisto tutto è sotto gli occhi di tutti e quindi analisi perfetta a tra poco per l'S&P ciao ciao